Si è svolta questa mattina davanti alla chiesa sconsacrata di San Giovanni Battista a Casciago la venticinquesima edizione di progetto Kaki alla presenza del sindaco, del consigliere regionale Monti e dei bambini della scuola elementare Manzoni. Mostre d'arte contemporanea, ateli artistici, laboratori con a tema la pace, presenti delegazioni dal Giappone e del comitato Kaki Free Europe. Ricordiamo che il Kaki, messo a dimora nel 2000 in questa stessa sede, è figlio dell'unica pianta sopravvissuta all'esplosione della bomba atomica di Nagasaki dell'agosto 1940.